Salve salve, oggi farò un video un po' diverso dal solito, parlerò sempre di Diablo 4 ma su una notizia che è uscita questi giorni, anzi credo ieri Allora, la Blizzard aveva dichiarato che all'uscita Diablo avrebbe avuto direct storage e ray tracing di LSS 2 e 3 Quindi tutte le nuove tecnologie sarebbe stato praticamente l'unico gioco insieme a Forspoken con i vari problemi che ha avuto il gioco che avrebbe avuto tutte le nuove tecnologie a disposizione Questo non è successo, tant'è, e secondo me forse le voci erano vere, si diceva che addirittura Diablo forse rischiava un rinvio Il rinvio non è successo ma probabilmente non abbiamo per le mani la versione definitiva Comunque, cosa è, anzi Blizzard ha dichiarato adesso che il supporto, vedete, non è al momento abilitato ma abbiamo pianificato di abilitarlo in futuro Non è detto quanto, in effetti la notizia del supporto di Direct Storage da parte di Diablo 4 era emersa lo scorso marzo Ma la questione non ha poi trovato conferma nella versione finale del gioco Quindi diciamo che il gioco attende l'aggiornamento e la Blizzard ha detto che lo faranno Ma cos'è il Direct Storage? Come funziona? Tra l'altro qui c'è scritto che il gioco sopporterà la versione 1.02 ma in realtà è la versione 1.02 Il problema attuale di molti videogiochi è che i dati, soprattutto alcuni tipi di dati Tipo le texture, gli shader, eccetera, eccetera Vengono caricati, guardate qui c'è il grafico Vengono caricati dall'hard disk, vanno sulla CPU Dalla CPU vanno sulla memoria di sistema Dalla memoria di sistema, tutto passando per il PCI Express Va sulla GPU e la GPU lo elabora e la butta sulla memoria della scheda video Ovviamente con l'avvento di nuovi hard disk abbiamo avuto un potenziale invio di dati Dalle SSD verso la CPU spaventoso Cosa è successo? Qui ci fa vedere la situazione Che gli SSD possono comprimere, soprattutto la Gen 4.0 Le texture a una velocità mostruosa E praticamente lo scambio, vedete, la CPU deve scambiare più volte i dati compressi Con la memoria di sistema e poi inviarli alla scheda video Questo ovviamente fa perdere un sacco di tempo Di tempo, non fa perdere tempo ma comunque i caricamenti sono veloci ma fino a un certo punto Il Direct Storage cosa fa? Sostanzialmente schippa direttamente tutto quanto il lavoro che deve fare la CPU E invia direttamente i dati alla GPU Questo perché? Perché la velocità degli SSD 4.0 E la loro velocità nella compressione dei dati Facilita talmente il lavoro alla GPU che gli permette di inviare i dati direttamente E lavorarli e inviarli alla memoria della scheda video Per fare questo bisogna avere una E qui ce lo dice Richiede un SSD NVMe 4.0 Direct X12 con supporto agli shader 6.0 E qua vi dicono cosa Quindi GeForce 2000, 3000, 4000 perché questo sito, questa è una notizia vecchia E GPU, AMD, RDNA 2 e 3 E anche le Intel ovviamente, le Arc Cosa succede però? E qui ci fa vedere un esempio di normale con la compressione, non compresse, compressione CPU da parte con l'hard disk normale Velocità, questi sono i tempi di caricamento Caricamento con un SSD E con invece il Direct Storage Quindi diventa praticamente quasi immediato Che differenza c'è con la versione 2.0? Sostanzialmente la Microsoft adesso ha permesso Guardate l'elemento chiave di questo aggiornamento Introdotta da Microsoft E risposta a alcuni richiesti, alcuni sviluppatori Di utilizzare lo stesso codice per SSD e HD meccanici In sostanza si richiede la possibilità di utilizzare lo stesso funzionamento Quindi di inviare direttamente i dati alla scheda video Ma tramite gli hard disk meccanici Dice che attualmente Direct Storage apre i file solo in modalità senza buffer Poiché gli SSD sono sufficientemente veloci Per gestire il tutto Tuttavia gli HDD, cioè gli hard disk normali Hanno un buffer abbastanza grande Adesso gli SSD non ne tengono più conto Ma i vecchi hard disk avevano i più grandi Circa 64 MB di buffer Che era una cache molto veloce Quindi dice Il buffer è un vantaggio significativo I dati vengono precaricati in RAM Riducendo i tempi di caricamento D'ora in avanti sarà possibile forzare l'utilizzo del buffer Indipendentemente dal tipo di unità di archiviazione Semplificando così il codice di gioco Quindi che succede? Che i dati vengono precaricati sul buffer Caricati sulla RAM E poi dalla RAM sulla scheda video Non lavora più la CPU sostanzialmente Microsoft sottolinea che La modalità senza buffer Dovrebbe offrire una maggiore velocità complessiva Quindi se avete un SSD NVMe 4.0 È più veloce Poiché i file devono completare meno passaggi Prima di raggiungere la GPU Tuttavia l'azienda non quantifica le differenze prestazionali Il che suggerisce che potrebbero non essere particolarmente significative Quindi diciamo che con questa tecnologia qui Che utilizza addirittura hard disk meccanici vecchi Teoricamente il vantaggio dovrebbe essere non troppo distante da quello di un SSD NVMe 4.0 Io il consiglio che vi do è sempre prendere un SSD che abbia circa 6-7 GB di lettura La notizia tra l'altro qui sbaglia tutto Perché dice che In base ai DLL trovati all'interno del gioco Sembra che Diavolo 4 utilizza la versione 1.0.2 Di Direct Storage Cosa che non dovrebbe comprendere la compressione tramite GPU Ok? E dovrebbe basarsi soprattutto sul lavoro della CPU Cosa che incrementerebbe un po' il carico su questa componente In realtà Come abbiamo letto da quest'altra notizia L'1.2 e non l'1.0.2 In realtà utilizza il buffer e la RAM di sistema Per archiviare le texture e gli shader Per poi inviarli comunque alla GPU Eccola qua Spostata la copia dopo la decompressione GPU Nella coda di calcolo Per le GPU su cui è più veloce Quindi Teoricamente Questo comunque Il Direct Storage dovrebbe aiutare A conti fatti La velocità di caricamento Sicuramente Nei vari Quindi quando facciamo Utilizziamo un crocevia O tempi di caricamento Di inizio gioco Si spera Ma questo non è detto Perché sembra che Tutti gli starter Le perdita di frame Mentre siamo nel mondo Sembra derivante dai server E non dal nostro PC Quindi il nostro PC È Diciamo Incolpevole Di quella perdita Quindi teoricamente Il Direct Storage Non dovrebbe aiutare Ma dovrebbe aiutare Molto nei caricamenti Forse teoricamente Anche Nelle prestazioni Generiche del gioco Anche se questo poi Non è che sia molto necessario Perché comunque Il gioco Non è particolarmente pesante Io spero che Il video vi sia piaciuto Che sia chiaro Che Un pochino Come funziona Il Direct Storage Anche perché è diciamo No un effetto Una tecnologia Che ancora Non è praticamente Utilitata Da nessun videogioco Questo fa onore Alla Blizzard Che sarà Una delle prime Soprattutto su un gioco Di qualità E non su Forspoken Come ha fatto La Square La prima Diciamo A utilizzare Questa Tecnologia Innovativa È anche vero Che secondo me Come dire Il gioco Probabilmente Non era Del tutto completo E ci hanno rilasciato Comunque Una sorta Di demo Probabilmente Già Nella stagione 1 Vedremo Molti cambiamenti Sia di gameplay Che di altro Che ci faranno vedere Quello che forse Doveva essere Il gioco finale Vi saluto Ci vediamo Per il prossimo video Arriverci Per il prossimo video